L'Avezzano rialza la testa e conquista i primi tre punti stagionali. Ai Biancoverdi è bastato un lampo di Filippo Franchi per avere la meglio di una Iesina troppo rinunciataria, ancora a secco di vittorie. Al termine di una settimana delicatissima con gli addi di Mecomonnaco e Fanti, i marzicani, rinfraccati anche dall'ingresso in società dell'imprenditore pescarese Vincenzo Serraiocco, ritrovano il morale grazie ad una prova di nervi e coraggio che ha piegato la debole resistenza dei marchigiani. In attesa di Alessandro Delgrosso, quest'oggi avvistato in tribuna, il tecnico della Juniors Alessandro Vaccaro disegna un 4-3-3 con la novità cancelli in avanti, di fianco a Franchi e Gaeta. In mediana spazio al neocapitano, Nicola Scras, mister Emanuelli si affida al 4-3-1-2, con Enrico a dettare i tempi e Villanova dietro le punte, Cruz e Damiano. Avvio arrembante degli ospiti, al nono Enrico raccoglie la sfera da corner, rasoiata di poco a lato, 40 secondi e Damiano riceve palla dal limite, controllo e scarico che finisce tra le braccia di Alonzi. Al diciottesimo non si plaga l'offensiva dei Leoncelli, a provarci a Villanova da piazzato, conclusione telefonata per l'estremo Biancoverde. La gara diventa soporifera e l'Avezzano sembra ancora accusare l'inizio shock di campionato, oltre alle vicende societarie degli ultimi giorni. Al trentottesimo però arrivano segnali di vita dai marzicani, Gaeta ben appostato in aria fallisce il controllo e cestina la prima azione degna di nota del match. In avvio di ripresa, Biancoverdi subito all'assalto, dopo 60 secondi Franchi raccoglie una conclusione ribattuta da Cancelli e spara alto da buona posizione. Al quinto replica la Iesina, Villanova scarica in porta, palla che accarezza la traversa. Al nono l'Avezzano alza la testa e graffia sulla partita, azione che si sviluppa sull'asse Gaeta-Franchi col 9 che veste i panni da assistman e fa galoppare Franchi per l'1-0. Primo gol in campionato per l'ex Matelica e tutto cuoio e match sbloccato col vantaggio in tasca. I Biancoverdi si sciolgono, Manuelli inserisce, Tomassini per Moricoli, Barchiesi per Pajalunga e De Rose per Ballardini. Vaccaro risponde con Diop per Cancelli e Puglielli per De Angelis. Nonostante i cambi, i Leoncelli non incidono, i Biancoverdi si compattano a difesa del vantaggio, non subendo occasioni dagli ospiti. Si scivola quindi fino al 42esimo, quando sono proprio i marzicani a sfiorare il raddoppio con il tentativo di Gaeta che viene murato dalla difesa marchigiana. Finisce con il primo successo in campionato per l'Avezzano che vola a quota 4 superando in un colpo solo Jesina, Fiuggi e Agnonese. In attesa del nuovo tecnico del grosso, il cui ingaggio potrebbe essere ufficializzato già domani, e del nuovo riassetto societario con l'arrivo di Serraiocco, i Biancoverdi danno il via, forse, ad un nuovo inizio. Bocche cucite in casa Jesina, che manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria della stagione. Allora, oggi è un po' il suo primo giorno qui in questo club, in questa squadra. Le prime sue sensazioni innanzitutto? È il mio primo giorno, da questa mattina presto che sono qui, quindi dopo aver parlato con Luciano in questi giorni, avevo deciso di affrettare il primo possibile quelle che sono le decisioni societarie. Era bello arrivare qui e dare un bel risultato alla città, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo voluto da diverso tempo io e Luciano, che la risposta più importante è sempre il calcio e il campo. I giocatori e tutti sono stati vicino al presidente, tutto merito di Luciano, la vittoria di oggi. Insieme faremo grandi cose e porteremo l'Avezzano a quello che è giusto che sia. Senta, cosa l'ha spinta a sposare questo progetto? Ci sono tanti rapporti che ho a Avezzano, anche professionali, e mi spinge questa voglia di questa zona, di quest'area, che è giusto che ci sia qualcosa di bello di calcio che possa nascere in questo territorio. I suoi progetti futuri per questa squadra, quale futuro vede per l'Avezzano? È ancora presto, stiamo parlando, continueremo a parlare della squadra, poco tempo delle società, della squadra, di quello che si deve fare, di quelli che sono i ruoli. Tra me e Luciano è nata in pochissimo tempo una bellissima amicizia e soprattutto un bel rispetto tra me e lui. Tra me e lui e tutti quelli che sono gli organismi di questa società che mi hanno accolto in modo straordinario, che ringrazio tutti, dal magazziniere, alla squadra, al mister. Ringrazio tutti per l'accoglienza che mi hanno dato e ringrazio tantissimo Luciano per l'opportunità che dà a me e alle mie società di poter rappresentare qualcosa di importante.